Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniele e bentornati sul canale di progetto. Nel video di oggi andremo ad implementare la comunicazione Canvas tramite Arduino. Utilizzeremo il modulo MCP2515, un modulo molto semplice da utilizzare che ci permette di implementare una comunicazione Canvas con Arduino molto efficiente, molto comoda e molto facile da utilizzare. Quest'oggi non andrò nel dettaglio, non andrò a parlarvi di come funziona il protocollo Canvas perché è un discorso molto complicato, molto lungo e penso che non vi interessa nemmeno, molti di voi sono qui per imparare ad utilizzare questo modulo. Innanzitutto vi dico le applicazioni per le quali potete utilizzarlo. Ad esempio è uno strumento molto utile su un'auto, su un robot oppure anche in ambito aeronautico. Quindi ad esempio all'interno degli aerei oppure anche una comunicazione utilizzata anche nei razzi. Questo perché la Canvas è molto affidabile, nel senso che è meno soggetta a errori di comunicazione. Detto questo andiamo ad esplorare il modulo MCP2515. Come vedete è dotato di 7 pin ma noi ne utilizzeremo 6. Vediamo che la maggior parte dei pin sono pin SPI se mette a fuoco. Quindi abbiamo il clock dell'SPI, abbiamo il MISO, il MOSI, il chip select che andremo a mettere sul pin 10 e poi VCC e ground. In particolare collegheremo CLK al pin 13 di Arduino, il MOSI al pin 11 e il MISO, in realtà qui sopra c'è scritto SO e SI, sono abbreviazioni, il MISO sul pin 12. E come ho detto prima CS sul pin 10. Un'altra cosa molto importante vedete che qui sul lato in realtà ci sono due pin qui e due altri qua sopra. Quelli qua sopra servono per collegare più moduli perché appunto andiamo a collegare più moduli per implementare la comunicazione. Questi qui di fianco sono due jumper da collegare qualora questo modulo fosse appunto un modulo terminale. I moduli terminali appunto devono avere una resistenza da 120 ohm, in questo caso è già integrata molto comodamente su questo PCB quindi basta che colleghiate questi due jumper e avete di conseguenza la resistenza da 120 ohm già all'interno del circuito. Se state utilizzando solo due moduli mettete un jumper su il primo e un jumper sul secondo. Ora invece fate tantissima attenzione a collegare la CAN BUS. Come vedete qui abbiamo a disposizione due morsetti e è equivalente collegare questi due pin al di sopra. In sostanza abbiamo una comunicazione ad alta velocità e a bassa velocità. La comunicazione ad alta velocità di solito ci sono i dispositivi più importanti. All'interno di un'auto ci sarà ad esempio l'ABS, il controllo trazione. A noi questo poco importa, dopo lo andrete a utilizzare come volete. Però qui vedete che da una parte a sinistra in questo caso abbiamo l'alta velocità e a destra la bassa velocità. Siccome andremo a collegare altri moduli dobbiamo fare attenzione appunto di collegare l'alta velocità all'alta velocità e la bassa velocità alla bassa velocità. Non è scontato, prestate attenzione. Se ci sono errori può essere questo uno dei tanti motivi. Quindi ragazzi ora dirigiamoci ai collegamenti e vediamo come montare questo modulo sopra d'Arduino. Innanzitutto procuriamoci dei cavi maschio-femmina se state utilizzando Arduino Uno oppure femmina-femmina se state utilizzando Arduino Nano. Successivamente andiamo a collegarli ai pin del modulo MCP2515. Una volta collegati al modulo andremo a prendere il nostro Arduino Uno, andremo a collegare SCK al pin 13 di Arduino, SI al pin 11 di Arduino, SO al pin 12 di Arduino e CS al pin 10. Infine andremo a collegare il GND al GND di Arduino e VCC ai 5V di Arduino. Successivamente andiamo a collegare la comunicazione CAN-BUS tramite morsetti. Vedete che potete collegare ad esempio anche i cavi jumper di Arduino e mi raccomando collegate l'alta velocità all'alta velocità e la bassa velocità alla bassa velocità. Una volta fatto questo ricordatevi di mettere i jumper sulla resistenza da 120 Ohm. Se appunto state utilizzando solo due moduli mettetela in entrambi. Quindi una volta terminati i collegamenti passiamo subito alla parte codice. Notate che la CAN-BRIGHT e la CAN-READ sono molto simili. In entrambi abbiamo bisogno dell'SPI per poter comunicare con il modulo. Successivamente andiamo in gestore librerie e andiamo a scaricare la libreria MCP2515. Quindi qui scriviamo MCP2515. Ok. Ci viene mostrata 107 Arduino MCP2515. e installiamo questa versione. Successivamente vi consiglio di partire da esempi e poi andate giù finché non trovate Arduino 25 MCP2515. Aprite CAN-READ e CAN-BRIGHT. Io ho modificato un po' la READ qui in modo tale che sia molto semplice capire quali dati ci stanno arrivando. Quindi innanzitutto per entrambe facciamo un include di SPI.H e di MCP2515.H. In entrambe definiamo il PIN10 come il PINCIPSELECT. Poi andiamo a definire la STRUCT CAN-FRAME CAN-MESSAGE1. Nella CAN-WRIGHT MESSAGE1 perché possiamo inviare più messaggi. Quindi potremmo mettere anche MESSAGE2 se vogliamo inviare un secondo messaggio. Mentre nella CAN-READ semplicemente ci serve un CAN-FRAME per leggere cosa sta arrivando sulla comunicazione CAN-BAS. Andiamo a istanziare l'oggetto MCP2515 passandogli il PINCIPSELECT in entrambi. Qui abbiamo una differenza semplicemente perché andiamo a creare la STRUCTURE del messaggio nel VOID SETUP. Si può fare anche nel VOID LOOP, non è assolutamente un problema, anzi è molto utile per andare poi a modificare i parametri che si vanno ad inviare nel CAN-FRAME. Qui ad esempio potete mettere valori interi a vostro piacere, qui all'interno, e potete mettere dati come ad esempio il READ di una temperatura o di un sensore di umidità. Il DLC definisce quanti dati stiamo passando, in questo caso vedete che sono 8, e il CAN-ID, che potete anche modificare, è l'identificativo di ogni dispositivo CAN. Quindi, attenzione, è molto importante utilizzarlo. Qui invece, come poi anche qui, WHILE NOT SERIAL attende che la comunicazione seriale sia disponibile, ma a meno che non abbiate bruciato Arduino, questo non dovrebbe impedirvi il funzionamento del codice, impostiamo la comunicazione seriale a 115.200 BAUD in entrambi, MCP2515.reset, settiamo la bitrate della CAN-BUS da 500 Kbps a 8 MHz, e poi la impostiamo in NORMOD, e fin qui tutto semplice. Successivamente cosa cambia? Qui andiamo a chiamare la funzione sendMessage, e siccome stiamo utilizzando una struct, non possiamo passargli la struct, gli dobbiamo passare l'indirizzo, appunto, di memoria dove è contenuta la struct. Per questo c'è l'end davanti. Se non vi funziona la comunicazione, può darsi che questo sia un errore, una dimenticanza. Poi qui una printline di debug, delay di 100 ms, comunque mettetecelo un delay. Mentre da questa parte andiamo a controllare se il CAN-Frame che andiamo a leggere, perché con readMessage andiamo a leggere, e lo passiamo, vedete anche qui, AND CAN-Message al dato CAN-Message, se questo è uguale a error hoc, quindi non ci sono errori, allora andiamo a prendere l'ID, e lo mostriamo in esadecimale, che va bene così. Poi andiamo a prendere il DLC, che questo ci servirà poi per leggere i dati, e dovrebbe essere uguale a questo, quindi dobbiamo ricevere 8, e poi andiamo a printare i dati, quindi forinti uguale a 0, i minore di CAN-Message.CAN-DLC, quindi minore di 8, andrà da 0 a 7, giustamente, vedete, e poi più più, andiamo a prendere il dato con CAN-Message.Data-D, e poi abbiamo fatto. Qui abbiamo messo delle printline, così da avere meno confusione. Andiamo ad aprire il monitor seriale, e vedete qui, ID 37, DLC di 8, giusto, e i dati sono 1, 2, 3, 4. Andiamo magari a modificare questo, mettiamo 123, cambiamo l'ID in 34, ora COM4, old bootloader, perché questo è quello vecchio. Sto utilizzando due Arduino Nano, una versione nuova e una versione vecchia. Una volta che il caricamento è completato, andiamo a vedere cosa ci arriva, e notiamo che appunto l'ID è cambiato, ed è 34. E ora, appunto, il terzo dato, che in realtà sarebbe il quarto, partendo a contare da 1, 2, 3, 4, è 123. Quindi vedete che è molto facile da utilizzare, e in un attimo, se andate ad aprire i file di esempio, potete subito testare la vostra comunicazione CAN-BUS. Quindi ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia stato molto utile, mi raccomando lasciateci un like per supportarci, iscriveteci qui sotto nei commenti per qualsiasi domanda. Questi moduli MCP2515 li trovate anche nella nostra lista Amazon, qui in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, sia per supportarci, e sia perché sul nostro canale troverete altre centinaia di video in ambito informatico, veramente molto interessanti. Quindi ragazzi, io vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!